E' ancora E' ancora Verso il punto del percorso E' ancora E' ancora E' ancora E' ancora Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Sì, signore Scusi Scusi D'accordo Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Scusi 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 Alla carica Fatemi passare Sono un medico In marcia Trasso di loro Non capirò cosa succede Ricordo Avanti Scusi Aspettiamo ordini Muoviamoci Subito Resisti ancora un po' Resisti ancora un po' Che mi prenda un colpo il vecchio Duli Scusi Dunque Le torrette saltano come tappi Non è certo una bella immagine Scusi Scusi Ecco la tua benzina In bocca al lupo Scusi Fa bene Eccomi Fuoco di artiglieria Scusi Peccato che i loro matita saranno presto assetati di benzina Sì Sì Avanzate Benissimo Impatta E Andiamo Va bene Qual è l'ultimo comandante Qual è l'ultimo comandante Subito Obiettivo designare O O San Eliminateli Eliminateli Fica signora Andiamo E' in fretta! Andiamo! Quali sono gli ordini? Va tutto con il testo! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Quali sono gli ordini? Chi è ferito? In marcia! D'accordo, sì! E ancora! Aspettiamo ordini! Qual è l'obiettivo, comandante? Sì, sì! Sì, sì! va bene andiamo si andiamo in marcia aspettiamo ti andiamo si signore dica signore quali eccomi qual è l'obiettivo comandante in marcia e ora dai si andiamo benissimo in marcia sono gli ordini si signore si signore si e ora in marcia qual è l'obiettivo comandante avanti scusi si si fatti si e ora aspettiamo e si 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 Sì, non è vero, non è vero. Aspettiamo ora Aspettiamo Vali solo Sì, signore, l'obiettivo comandante Scusi All'attacco Scusi Non c'è problema Prendeteli Qualcosa Figlio mio, aiuto Vanno attaccando Subito Subito Corso medico a vostro servizio Va bene Aspettiamo ora D'accordo, normali sono gli ordini In marcia Uno in meno Avanzate Eccomi Quali sono gli ordini Cosa Cosa Siamo Al suo servizio Sì, signore Quali sono gli ordini? Alla carica Sono pronto Non ci scapperanno Distruggeteli Soccorso medico Sì, signore Andiamo Benissimo In marcia E... Andiamo Confermo l'ordine Sì, signore Sì, signore In marcia Vabbè Sì, signore Ok Prendeteli Non si scapperanno Non si scapperanno Anche Vanno Prendeteli Un po' Il vetro Al suo servizio Cosa c'è? In marcia! Subito! Prezza! Andiamo! Sì! Quali sono gli ordini? Cosa è successo? Aspettiamo ordini! Scusi? Ah! Arigaaaaargh! Arigaaaaargh! Arigatelo! 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 Accordo! Sì! Sì! Allora, suoi! Sì! Sì! Grazie a tutti